Ciao Saul e buongiorno a voi amici! Vediamo oggi come preparare il terreno in primavera per le semine e i trapianti. Dai Saul, raccontaci un po'. Siamo nell'orto, nel senso che vediamo una parte di quello che è rimasto, perché vediamo le piccole coste che stanno crescendo, che sono in realtà i ricacci dell'anno precedente. Vediamo il cavolo viola che sta rigermogliando e vediamo l'erba che c'è, no? Però vedete che qui dove c'erano i percorsi ho già tolto un po' d'erba, in realtà io non la butto via, questo materiale lascio qua, queste sono le puliture del cipollotto che è germogliato lì, ho tolto, l'ho lasciato qua, vedete che anche qua c'è erba, vedete che questi sono la parte dei ricacci, degli spinaci in Nuova Zelanda, è tutto un impasto che io poi butterò nel terreno. Cioè qui, su questa parte, questa non è ancora stata lavorata, questa ho leggermente lavorato il terreno col motocoltivatore, ho impastato tutto, cioè vedete? Cioè qua dentro c'è il terriccio e qua dentro c'è già questo materiale. Io ho integrato questo materiale, poi do una suddivisione e poi vado a piantumare. Ovviamente cosa faccio? Divido le aiuole, colpo di rastrello, sistemo, piantumazione, pacciamatura. Pacciamatura con che cosa? Il materiale che vi ho fatto vedere prima, per cui servirà e poi immediatamente, quando sarà possibile, sfalcio del prato, per cui la parte a prato, una parte la lascerò andare in fioritura per produrre semi di piante spontanee, cioè di erbacce, diciamo, erbe comuni, e il resto lo lascio asciugare e poi lo uso come pacciamatura. Vedete anche qua tutto il, proprio tutto il materiale che c'è dentro, no? Vedete? Non so, questo ad esempio sono gambi di ellino. Come dire, a volte non è bellissimo da vedere l'impatto, ma l'impasto del terreno è molto bello, cioè ha una bella umidità e una bella densità, no? Vedete tutti questi gambi? Cioè, pensate a il calore che trasferisce nel terreno, perché è così l'aria, e per cui la possibilità di avere tutti gli organismi dentro il terreno che decompongono il materiale e rendono disponibili tutte le sostanze alle verdure. Ecco come si presenta l'orto dopo aver dato una fresatina per impastare il materiale. Suddiviso le aiuole e data una passatina con il rastrello. E adesso, Saul, ci fai vedere qualche esempio di pacciamatura? Vabbè, questo è il bordo dell'orto dove ho i rabarberi, no? Poi io qua vado a pacciamare con il materiale, foglia, materiale, rami, il materiale più grosso della salvia, ciò che non ho integrato. Cos'è successo? Vedete che bel terriccio qua? Io lo faccio ogni anno e questo è un terriccio molto speciale. Cioè, lo vedete anche nel colore e nella differenza. Cioè, vedete? Ovviamente tutto questo lo spingo verso l'interno, l'ho già fatto e ho fresato. Altro materiale, vedete quanto materiale, come dire, molto grossolano, no? Rametti, così. Queste sono le potature, ad esempio, dei lamponi, che li vedete qua in un cumulo. Cosa succede? Che è vero che sono molto ingombranti. Avendo voglia e avendo tempo, si possono anche spezzettare maggiormente. Ma semplicemente prendendoli e ricavando delle piccole fascine abbastanza ordinate, tipo questa dimensione, vado poi a stenderli lungo il bordo dell'orto, in questo modo. Per cui continuo con la posizione di questo. Cosa creerà? Un bordo che tratterrà la terra, per cui comunque non scivolerà mai. Un bordo che soffocherà la cotica erbosa che entra, tratterrà umidità, calore, perché ovviamente è calore, attirerà insetti e di conseguenza vita che genera altri insetti, perché se noi abbiamo piccoli lombrichi, formiche, cioè pensate a quanti uccelli poi arriveranno come predatori a consumare loro, ma in realtà faranno di servizio, di pulizia anche agli alberi, oppure ai vegetali che abbiamo, non so, i pidocchi sui cornetti, altre cose. Andando poi a sfalciare, ci metto un po' d'erba e l'anno prossimo questo materiale sarà già ricomposto. Cioè il tutto viene integrato. Cioè noi tendiamo sempre a togliere perché pensiamo che è inutile. Altrimenti non posso fare questa cosa, lo alterno all'interno dello strato di compostaggio, per cui nel cumulo, per cui sfinito di sestimare la mia parte di orto, finito di seminare, finito di pacciamare, tutto quello che avanzo, faccio il cumulo e diventerà compostaggio. Per cui probabilmente dalla metà di maggio, che diciamo semine e impianti sono fatti, tutto verrà accumulato in un punto e produrrò compostaggio. Ci fai vedere dove hai accumulato il materiale, diciamo di scarto, dell'anno scorso? Questo è un punto abbastanza a mezz'ombra, umido e riparato. E poi diciamo è un punto abbastanza veloce da raggiungere con il materiale, cioè il punto meno faticoso dove depositarlo. Vedete che ci sono dei lamponi, c'è un robarbaro. Questo materiale qua è materiale accatastato l'anno scorso, era un cumulo piuttosto alto, anche a un metro, materiale mischiato ed è un risultato di un compostaggio. Vedete che qua sotto c'è l'erba, ma vedete che bel terriccio? Vedete questo materiale? Adesso io lo apro così. Vedete che si vedono ancora parte, cioè questi sono parti legnose, ma questo è tutto materiale che io poi andrò a togliere, vedete, e lo utilizzerò per pacciamare. Vedete come è bello questo materiale? Questo è tutto materiale che poi ricaverò e cercherò di utilizzarlo. Cosa succede? Che lo preparo, lo raccolgo, ne faccio magari un cumulo o un mastello, facendo quest'operazione, muovendolo, finirà di triturarsi, perché ovviamente è un materiale, vedete, si sfalda tutto, poi lo lascerò a cumulo per una decina di giorni e poi lo userò per pacciamare. Vuol dire umidità, sostanze, che poi con la prima pioggia penetrano nel terreno e riciclo. Vedete queste parti legnose? Io riciclo assolutamente tutto. Questi sono probabilmente rametti, dei pomodori, cioè steli di... Vedete? Molto interessante questa parte perché qui c'è la sepe di ribes che è già andata in fioritura e ci sono già i frutti ben sviluppati, vedete? Le loro sferine. La settimana scorsa ho pulito l'erba, ho strappato, ho cercato di pulire, in realtà vedete che tutto il suo materiale di pulizia l'ho lasciato sotto. Questi ad esempio sono dei lamponi che si erano spollonati. Vedete che io non li ho tolti, li ho lasciati sotto. Tanto si seccano, si decompongono, crea un bordo di decomposizione, di umidità, una copertura, non mi cresce l'erba. Si fertilizzano da soli ed è a ciclo continuo, cioè riceve man mano che piove, man mano che si decompone, per cui man mano la vita dal terreno risale a consumare quello strato lì, piano piano se lo incorpora portandolo verso l'interno. Per cui è veramente un ciclo continuo.